Ciao a tutti e benvenuti su Mondo Promozioni. In questo video vi mostrerò i 5 migliori spillatori di birra. Inoltre vi lascio il link di tutti questi fantastici spillatori di birra qui sotto nella descrizione del video. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo lo spillatore di birra Relax Days. Per creare l'atmosfera giusta durante parti ed eventi, potete contare su questa torre di birra. Il dispenser non deve essere riempito solo con birra, ma potete utilizzarlo anche con Coca-Cola, limonata o altre bevande. Il contenitore del ghiaccio interno permette di mantenere le bevande fresche. Pratico, occupa poco spazio quando inutilizzato, facile da trasportare e lavare. Il prezzo è di 64 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo lo spillatore di birra Koenig. Dotato di un manico rimovibile e di un corpo in acciaio inossidabile, lo spillatore funziona con fusti da 5 litri. Unica e inimitabile con i suoi 65 Watt di potenza, il suo corpo in acciaio inox e in pugnatura smontabile, la spillatrice è compatibile con tutte le marche di birra. Il suo sistema di raffreddamento integrato vi permetterà di assaporare la vostra birra a una temperatura ideale. Potrete regolare la temperatura dal display a LED, che va da 6 gradi per una birra aromatizzata a 11 gradi per una bruna. Una birra alla spina fresca e buona come al pub. Il prezzo è di 159 euro. Prima di passare al prossimo prodotto, iscriviti al canale per non perdere le migliori offerte. Numero 3. Al terzo posto troviamo lo spillatore di birra Klarstein. Appena spillata, ha un sapore migliore. Lo spillatore per birra Klarstein prevede consumo di birra continuo dai fusti di 5 litri. Il dispositivo di raffreddamento dello spillatore è dotato di un'unità di raffreddamento integrata, che funziona in modo silenzioso e mantiene la temperatura tra i 2 e i 12 gradi. Un display LED, fornisce informazioni sulla temperatura. La birra riceve sempre la giusta pressione, in modo da avere sempre una bella schiuma scintillante nei bicchieri. Lo spillatore di birra Klarstein è adatto per tutti i barili da 5 litri commerciali, i quali perforati rimangono freschi per un massimo di 7 giorni. Oltre al peso leggero, al design moderno e alla lavorazione di alta qualità, ha un design semiseparabile e pezzi lavabili in lavastoviglie per una semplice e veloce pulizia. Il prezzo è di 174 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo lo spillatore di birra Krups. Un indicatore consente di conoscere il livello di raffreddamento del barile. Con il sistema Beer Tender, la birra conserva gli aromi e alti livelli di CO2 al fine di garantire una perfetta degustazione per un mese. Vasta gamma di barili da 5 litri compatibili, compresa la birra Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados, Pelfort e Delves. Consente di inchinare il bicchiere a 45 gradi in un primo momento, e poi raddrizzare lentamente fino ad ottenere il giusto livello di schiuma. Il prezzo è di 288 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo lo spillatore di birra Perfect Draft. Utilizzando fusti da 6 litri, lo spillatore Perfect Draft permette di servire numerose birre con una freschezza incomparabile, per una degustazione ottimale. Molto semplice da usare, con molte funzionalità, come uno schermo di controllo a cristalli liquidi, un rubinetto di spillatura professionale e un raccogligocce rimovibile. Questo spillatore di alta gamma propone una ampia varietà di fusti compatibili. La maniglia del rubinetto e il raccogligocce si rimuovono facilmente e possono essere lavati in lavastoviglie. Il prezzo è di 303 euro. Vi ricordo che trovate tutti i link qui sotto nella descrizione del video. Grazie per la visione!